E' arrivato quel giorno tanto atteso per molti cittadini legati alle proprie tradizioni, ma è soprattutto una giornata speciale per una famiglia in particolare, quella del capitano dell'area al mestranza. La mattina del mercoledì santo, infatti, i riflettori sono puntati su di lui e quest'anno finalmente il maestro Calogero Garzia ha indossato il suo abito, la feluca e tutti gli altri elementi che contraddistinguono il capitano da tutte le altre cariche appartenenti alle diverse categorie. Dopo l'intronizzazione del Santissimo Crocifisso del martedì santo arriva dunque il giorno della processione, alla quale hanno partecipato tanti nisseni e non solo. La manifestazione ha avuto inizio con la riunione dei cerimonieri di tutte le categorie nel parcheggio della Grazia, per poi recarsi tutti insieme a rendere gli onori al capitano. E' passato il rassegno all'area al mestranza, dato inizio al corteo, passando da Piazza Europa per arrivare in Corso Umberto, lì dove è avvenuta la consegna delle chiavi della città al capitano dell'area al mestranza, un altro momento di grande emozione per il maestro Calogero Garzia. Ma anche per lo stesso primo cittadino Roberto Gambino, che consegna le chiavi della città per la prima volta a causa degli anni di pausa per la pandemia, essendo in carica dal 2019. Tappa successiva alla chiesa di Sant'Agata al collegio, dove l'assistente spirituale dell'area al mestranza, Don Michele Quattrocchi, ha affidato al capitano il Santissimo Crocifisso velato. E con guanti, calze, cravattini, neri e tutti segni di lutto, il corteo dell'area al mestranza si è diretto in cattedrale per l'adorazione eucaristica. Infine, intorno a mezzogiorno, l'area al mestranza, insieme al vescovo, al clero, nonché alle autorità civili e militari, ha effettuato l'ultimo tratto della processione. Questa volta però libera dai segni di lutto, indossando gli accessori bianchi e togliendo il velo nero al Santissimo Crocifisso.